Le abbiamo sorpresi tra le montagne, vicino al lago delle tre frontiere. Cosa cercate tra la Mongolia e la Manciuria? Forse non mi crederete, ma cerco di dimenticare qualcuno. Portate un berretto da capitano della guardia. Eppure l'arma non accetta zingari o marinai. Il berretto è un regalo. Allora? Allora cosa? Aspetto. Aspettate cosa? Siamo venuti in questo splendido paese per rubare l'oro di Kolchak, che la Tamansa è meno fa cercato di trafugare. E come finisce questa storia? Questo non lo so. Comunque Semenov non è riuscito a tenerselo, quel loro. Bene. Bene. Se le cose stanno così, non vi fucilerò. Non per il momento. Quanto a questa ragazza cinese. Domani andrà a farsi un giro dalle parti del bordello militare. Distrarrà i miei soldati. E voi, che assomigliate a quel crapolone di Rasputin, come vi chiamate? Rasputin, eccellenza. Voi tre mi sembrate un poco matti. Mi perdoni, eccellenza, ma le assicuro che il solo matto qui attorno è cortomaltese. E voi, che assomigliate a quel crapolone di Rasputin, eccellenza, ma le assicuro che il solo matto è un giro d'amore. E voi, che assomigliate a quel crapolone di Rasputin, eccellenza, ma le assicuro che il solo matto è un giro d'amore. Grazie.